Francesco Fedato Il terzino destro Macedone, Stefan Ristoschi, di proprietà del Parma, in prestito a Latina, con cui ha giocato in stagione 36 partite, segnando anche una pregevole rete nella semifinale contro il Bari. Jonathan s'attaccante, Ristoschi terzino destro, in pratica quello che serve al Catania per puntellare una rosa già di per sé competitiva per la Serie B. Una rosa a cui verosimilmente potrebbe aggiungersi anche Alessandro Rosina. Confermo l'interesse del Catania per Alessandro, però in questa circostanza, allo stato attuale, occorrerà monitorare in primo luogo la situazione del Siena. In uscita invece dal Traberghessio, che potrebbe finire in Inghilterra, l'USM, è anche Maxi Lopez, che andrà al Chievo. L'argentino dovrà convincere sul campo l'allenatore Clivenze Corini, secondo indiscrezioni non particolarmente convinto dell'ingaggio dell'attaccante. L'operazione dovrebbe portare nelle casse del Catania un milione di euro, anche se, secondo voci non confermati, i rosso-azzurri continuerebbero a pagare parte dell'oneroso stipendio di Lopez. Capitolo abbonamenti. La nuova campagna, con importanti novità, sarà presentata a Torre del Grifo venerdì 27 giugno alle 10.30. Alla presentazione potranno partecipare anche gli abbonati della passata stagione, che faranno richiesta, inviando una mail all'indirizzo abbonamenti chiocciolacalciocatania.it.